Gli effetti della scarsità di risorse finanziarie del comune di Mistretta cominciano a palesarsi gravemente. A farne le spese ovviamente i cittadini, i quali lamentano la parziale preclusione di alcuni servizi essenziali. Tra questi ci sarebbero l'erogazione dell'acqua, non garantita né festivi e le domeniche, ma anche lavori di manutenzione ordinarie e pulizia all'interno del territorio urbano e di custodia e gestione delle due preziose ville comunali. Per non parlare della pubblica illuminazione, spesso garantita da alternanze a macchia di leopardo. Tra le numerose criticità cittadine, quella particolarmente avvertita è la mancata apertura del cimitero nei giorni festivi e nelle domeniche. La chiusura sarebbe stata determinata dalla protesta ad oltranza dei due custodi che rifiuterebbero di svolgere attività lavorativa straordinaria, in quanto da tempo l'ente non avrebbe corrisposto loro le differenze retributive del lavoro straordinario. All'interno dell'area cimiteriale, oltre ai loculi comunali, ci sono le cappelle private di proprietà di Sodalizia Mastratini. Non mancano le proteste, anche e soprattutto attraverso i social e l'indignazione, specie per chi mistretta la vive quotidianamente, ma anche per chi, pur vivendo ormai altrove, torna in vacanza di tanto in tanto o chi, per necessità, sceglie di far visita ai propri defunti in occasione di giornate di festa. E se in passato la temporanea risoluzione del problema è stata affidata alla buona volontà di qualche dipendente o addirittura al buon senso di qualche amministratore, oggi a dare risposte alle esigenze ordinarie degli amastratini sono chiamati commissari straordinari, insediati dopo lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose e che hanno già attenzionato la situazione attraverso gli uffici preposti. Dopo l'esposto ai carabinieri presentato dal rappresentante della società operaia qualche settimana fa, i presidenti di tutti i Sodalizia e i responsabili delle cappelle Trinità e Carmine hanno deciso di riunirsi ieri sera per determinare il da farsi e garantire l'accesso dei propri consociati alle cappelle. A conclusione dell'incontro è stata sottoscritta una richiesta di incontro indirizzata proprio ai commissari per concertare possibili soluzioni. La nota però verrà protocollata soltanto lunedì prossimo 29 aprile e intanto anche questa domenica con ogni probabilità i cancelli del cimitero amastratino rimarranno chiusi.